Ragazzi, alla vostra! Goldo c'ha gli occhi rossi! Cosa sta succedendo? Ah! 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 Ma ne è bucato tutti! Is it Goldo inside? It is Goldo? Oddio sta dormendo! Oddio che disegnini che ha fatto! Oh mio Dio santissimo! Cos'è questa cosa? Oggi c'è il nether da fare, lo so che sei piccolo, ma bisogna andare nel nether! Cristo! Dovemmo andare nel nether! Posso aprirlo qua? Ragazzi, Goldo mi ha dato un pacco! Ah sì, c'è il livello! Ah figo! Ma se adesso tu ti siedi sopra me, sono ufficialmente una sedia? Sono un lago! Urla come un pazzo, brother! 1 v 1! 3, 2, 1! Io sono un gamer di Minecraft! Basta, basta, basta! Oh, Goldino! Goldo! Oddio, che bravo! Mi ha fatto tutto! Vabbè, Goldo, top player! No, la faretra, la pistola! La faretra con la pistola! Va bene, siamo pronti per prendere l'ossidiana? Ci vorrà un po' per arrivare, raga! Schiva l'albero, schiva l'albero! Questi sono in basso! Mamma mia! C'è l'hanno, velox, attento! Franzo veloce! Franzo sali! Franzo, Franzo! Figliori! No, il treno ha due gambe! No! Oh no! È la challenge! Falla! Falla! Emporio! Utensili, reliquie, qualsiasi cosa comprabile a un prezzo comunque abbastanza economico! Soprattutto quello che serve per andare nel nether è questo! Qual è la cosa più utile? L'amuleto! Ne prendo uno! Seals of the underworld! E questo è come si dovrebbe utilizzare, signor Emporio! Oh, l'ho acquisito, l'ho mangiato! Oddio! I am the power of Jesus in my hand! Mi sono nascosto sotto il tavolo! Urf! Giorgio ha due gambe! Venga, 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 venga! Ma è un coso sotterraneo! Dobbiamo discutere, venite! Arrivo! Cos'è? È una canna! È una canna? Cosa? Oh mio Dio! Madonna, ma... Ma altro che cartine lunghe! Porca puttana, ragazzi! Ragazzi, alla vostra! Oddio, ragazzi! No, ma questa è buona! Goldo, fuma pure! Tira bene! Ah, questa cos'è? Questo è lo spinellino? Goldo, tu non devi vedere queste cose! Orca puttana, amici! Sta per finire! Chi l'ammazza? Ammazzala tu, nuova! Madonna, ragazzi! Sto in chimica, zio pera! Io mi siedo che mi fa male la testa! Ragazzi, cosa sta succedendo qua? Eh, ci siamo fatti un cannone! Ragazzi, ragazzi, ma queste cose non rappresentano i valori di Twitch! Goldo c'ha gli occhi rossi! Passami sto cannone! Passami sto cannone! Fa sentì! Allora, questa cosa sarà contro i valori della piattaforma! Però è una bomba, zio vero! Ah, ah, ah! Ragazzi, da domani... Gordo, ma che succede? Guardami negli occhi! Mi faccio l'ultimo tiro! Ragazzi, dov'è Goldo? Goldo, devo andare in ospedale! Dove è Goldo? Goldo? Sono fattissimo! Ok, sto meglio, sto meglio! Sta tipo qua! Dovrebbe stare qua! Oh, Gesù, ragazzi, cos'è sta cosa? È Goldo questo? Oddio! Ma è Babbo Natale! No, se l'è inculato Babbo Natale! Ridammi Goldo! Questo qua non è Babbo Natale! Io me lo ricordavo diverso! Ridammi Goldo! Ragazzi, aiuto! Aiutatemi, ragazzi! Mi prego! Aiuto, ragazzi! Ragazzi, mi prego! Goldo, sei qua? Beh! E Goldo è qua! No, ragazzi, aiuto! Vi prego, aiuto! Aiuto! Sto rubando un bambino! Che ho ucciso? È ucciso Goldo, bro! Hai ammazzato Goldo! Oh, Goldo, eccolo! Scusa, Goldo! Pensavo eri Babbo Natale! Nova, Nova, Nova! Eravamo così fatti che Goldo è diventato una sorta di enorme Babbo Natale che mi ha rapito e è successo un chiede! Cosa? Sì, sì! Goldo non ha rubato di nuovo! Basta! Dammela! È diventato dipendente! Goldo, buttala via! Mamma mia! Se ti droghi di nuovo è finita! Posa il coltello! Ma che cazzo? Ma chi è quella persona? Dobbiamo fare un'evocazione! Cosa? Andiamo al tempio! Al tempio! Al tempio! Frati, è venuta una voce profondissima! Mamma mia! Ma io non l'ho mai visto Poldo e il Sio nella stessa stanza! È vero! Ragazzi, congratulazioni! Avete scoperto la mia identità segreta! Oddio! Oddio! Ussite tutti i portafogli! Ussite tutti i portafogli! Ussite tutti i portafogli! Ussite tutti i portafogli! Dov'è sto cazzo di tempio? Ah, eccolo! Orca miseria! Orca puttana, ragazzi! Chi è questa persona? Vado ad avvisare gli altri! Ragazzi! C'è un tizio che ha palesemente la skin di un pro player di Minecraft PvP Bedwars! Venite! Oh, Gesù Cristo! Goldo, che stai facendo là? Goldo! Goldo! Cosa sta succedendo? Wow! Ah! 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 Sì! Oddio! È il fupone! Ma hanno evocato tutti! Cosa sta succedendo? Possiamo farci una foto, Francesco? Oddio, Goldo! Ma che cazzo? Goldo, credo, sia diventato un cultista! No, Totti è aggressivo! Totti è aggressivo! Ragazzi, sedia Cristo! Andiamo! Forza veloce! Andiamo, ce ne basta! Scappiamo! Ci stai seguendo! Scappò! Mamma mia, ragazzi! Che cazzo avete fatto? No, ragazzi, è qua! Scappate! Venga, fuga, fuga! Vieni, vieni, vieni! Ok, Cristo, sedia! Facciamo un cazzo di portale! Andiamo nel nether! Facciamo l'ossidiana! Cappellino da sfigato, signor Poldo! Ma batte un affanculo! Tu è tutto ospedale! Del mio! Che cazzo di media! Guardi che lei non può dirmi che sono uno sfigato! Perché sa cosa ho io? Ho le ali da fatina! No, le voglio anch'io! Non sono uno sfigato! Sta rallentando il nostro contenuto! Ora, per scusarsi, deve dropparci sette pezzi di ossidiana! In realtà otto! Datemi un attimo! Allora, sono disposto a fare uno scambio! Quanto me la paghereste? È uno stack di pane! Allora, realisticamente mi tornerebbe comodo, quindi va bene! Do anche un bonus per il signor sedia! Venga! Le regalo delle cuffie da gaming! Wow! Sono fottuto gamer! È un cazzo di gamer! Anch'io voglio le cuffie da gaming! Se vuole posso regalarle un cappellino da Babbo Natale! Oddio, cos'è sta cosa? Ah, è il Marshall! Venite, venite! Io so dove farlo il portale! Venite! Pa, 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 pa! Ok! Qua dentro non lo troverà mai nessuno! A posto? Ci siamo? Signori? Si va! Wow! Ragazzi! No, no, no! Ci attaccano! Ci attaccano! Oh, cazzo! Di già ci attaccano! Sì? Mi ha ammazzato uno! Questo era buono! Mi si è ammazzato un buono! Dov'è sedia? Non dirmi che è caduto! Però non ne ho la certezza! Sedia! Ma c'è un bastione qua sotto Ce l'ho fatta, raga Tutto ok? Sì, dovevo mangiarmi l'amuleto Era pieno di creature, abbiamo ammazzate due Uno era pure buono, mi sembra C'è una casa Guarda là sotto Ok, sappiamo cosa fare, dobbiamo trovare il boss, mi raccomando Ce la facciamo Ci state L'ultimo L'ultimissimo L'ultimissimo Vai, vai Yeah, uno